Cosa ci è mancato più di ogni altra cosa in questo lungo, lunghissimo periodo? Ci è mancato il fiato, ci è mancato il respiro a qualcuno nei reparti ospedalieri e a qualcuno a casa ad aspettare col fiato sospeso le notizie dei propri cari, del lavoro del futuro dei nostri figli sì, perché è quello che accade normalmente sospendere il fiato trattenere il respiro vorrei provare tutti insieme proprio qui, proprio ora a fare un'esperienza simile perché sono certa che dopo questa esperienza porterete a casa vostra una maggiore consapevolezza e vi accorgerete nel quotidiano quando lo state facendo e accorgendovi cambierete la rotta bene proviamo a puntare un punto fisso trovate un focus piccolissimo piccolo e concentrate la vostra attenzione su quel punto come se dal grado di questo focus dipendesse tutta la vostra vita mettete una mano sul torace e l'altra sul ventre guardate fisso quel punto portate ora la vostra attenzione a ciò che accade con il vostro fiato non dovete respirare in qualche modo particolare anzi normalmente semplicemente osservate sono certe che state provando una sensazione bene ora proviamo a fare l'esatto contrario apriamoci a questo panorama spettacolare riempite gli occhi di questa bellezza apritevi cosa state provando vi sentite più liberi più leggeri ebbene sì perché puntando un solo obiettivo un problema un ostacolo noi tratteniamo il respiro diventando così o il predatore pronto a sferrare un attacco verso la propria preda o la preda stessa bloccata dalla paura è chiaro che non si può tirare a lungo in uno stato psicofisico del genere febbraio 2020 io ricevo la notizia della chiusura del teatro alla scala per un lungo lunghissimo lockdown un sipario nero e silenzioso scendeva su tutto il mondo della cultura migliaia di persone rimaste a casa senza il lavoro fatto sta che proprio quel periodo per me forse era il miglior periodo della mia vita artistica io avevo tutto contratti concerti scritture viaggi incontri esperienze fantastiche e la cosa più bella che la mia voce era proprio in stato di gloria bene io ricevo questa notizia e qualcosa scoppia dentro di me percepisco un misto di paura rabbia e buio totale dopo qualche giorno comincio a percepire i primi sintomi del virus sì era il covid 19 ma sapete una cosa io non non avevo paura di morire il mio terrore era di non poter più cantare ero terrorizzata all'idea di non poter più tornare alla mia professione un uragano un uragano di pensieri si agitava nella mia mente e due domande ritornavano di continuo una era chi credevo io fossi stata e chi ero ora la risposta è arrivata da una voce stridula che graffiava la mia anima e ripeteva e ripeteva continuamente sei inutile ma proprio grazie a questa voce ho capito ho capito che il vero scopo la vera missione della mia vita era sentirmi utile l'avevo scelto manifestare attraverso il canto la musica ma che in realtà potevo manifestarlo attraverso migliaia un milione di altre cose ho provato a far crescere il lievito madre ma dopo 20 chili di farina sparsa su tutta la casa l'esperimento è stato dichiarato ufficialmente fallito ma al mio marito che continuava a dirmi di smettere con questa faccenda io rispondevo fallita o no ma questa mia nuova attività sta salvando il nostro matrimonio e cosa potevo fare mi salvavo in cucina dal mio manicomio bene ho cambiato l'obiettivo e come in quella favola famosa mi aiutò lo specchio perché mi disse che non ero la più bella del reame troppo facile ho convissuto con la diastasi dei muscoli retti dell'addome per dieci lunghissimi anni moltissime donne presente qui forse conoscono questa patologia sappiate però che non colpisce solamente le donne postpartum ma anche gli uomini eppure i bambini bene decido di risolvere una volta per tutte questo problema voglio togliermi questa odiosissima pancia basta faccio la visita dal medico e il medico mi congedò dicendo che solo l'operazione poteva aiutarmi in questa impresa ma avevo un altro ostacolo non avevo i soldi ho scelto però di non arrendermi e cercare ogni soluzione possibile alternativa lo trovai e ha funzionato ero giubilante all'idea di poter aiutare altre persone coi problemi simili ho ristudiato ho appreso un'altra professione l'ho assimilata e ho fatto nascere un approccio nuovo anche verso il canto e la voce credetemi tutti possediamo un muscolo magico del quale però quasi sempre rimaniamo all'oscuro il diaframma il diaframma bloccato crea una pressione intraddominale tale da spingere i nostri visceri in basso e in avanti e la pancia cade come un palloncino la nostra postura si accartoccia su se stessa lo sguardo lo sguardo si trascina per terra e la vita diventa un macigno e perde i colori come possiamo cambiare questa situazione semplicemente espirando perché nel momento di espirazione il nostro diaframma si rilassa la sua cupola si alza e sospinge il fiato verso l'uscita creando così all'interno un vuoto uno spazio nuovo ma non solo per i visceri anche per le emozioni e per le esperienze nuove non è fantastica questa cosa vogliamo sentirci liberi espiriamo vogliamo sentirci attraenti espiriamo vogliamo sentirci felici connessi allineati espiriamo ho lavorato per 25 anni usando il mio diaframma ma mai e poi mai ho realizzato questo concetto così semplice e geniale allo stesso momento non è quanto siamo capaci a inglobare inspirare trattenere bensì quanto siamo capaci a donare lasciare andare espirare che cambia l'esito non solo di nostro stato di salute ma di tutta nostra esistenza facendo così noi cominciamo a vibrare all'unisono con la terra e il cielo sapete anche la voce è una vibrazione e nasce da due forze antagoniste l'energia del fiato sospinto dal diaframma libero incontra al suo passaggio un ostacolo le corde vocali e dall'incontro di queste due forze antagoniste nasce l'armonia non abbiamo paura degli ostacoli non rimaniamo bloccati alla loro vista trattenendo il respiro doniamo liberiamo espiriamo e lasciamoci trasportare verso il magico meraviglioso ed armonioso canto della vita grazie